Buongiorno a tutti, io sono Ana di Persi in Corea e qui c'è Valentina, anche oggi che non è una mia amica Quindi non odiatela perché non siamo amiche Non siamo amiche, ok Oggi è domenica quindi è una giornata un po' del cavolo a prescindere E siccome di domenica siamo sempre depresse, tristi, abbiamo deciso che dobbiamo fare qualcosa per sfogare la nostra depressione Quindi siamo venuti ad onde, che è dall'altra parte della città, però siamo venuti ad onde E faremo tre cose La prima è andare dalla cartomante a farci distruggere la vita Cioè ci leggerà i tarocchi e ci dirà che siamo delle persone tristi, che non troveremo mai l'amore E che saremo delle fallite come al solito perché tanto questa è la nostra vita La seconda, proprio per riprenderci un attimo da questa depressione O non si sa se è la seconda o la terza, dipende da quanto ci vuole la cartomante Comunque la seconda sarà andare alla, come si chiama? Rage room Alla rage room, praticamente pagate per distruggere le cose Cioè tantissimo Noi abbiamo preso quello del 60.000 won, 50 euro, andiamo a dividere in due E ci danno 30 cose di ceramica e due elettrodomestici In 15 minuti Cercheremo di filmare tutto senza distruggere la telecamera La telecamera non è un elettrodomestico E poi la terza cosa è un po' dove vuole andare all'interno Andiamo ad abbracciare i conigli Andiamo ad abbracciare i conigli, così ha detto Quindi intanto non perdiamoci in parole, inutili E andiamo dalla cartomante, la nostra fidata cartomante E andiamo ad abbracciare i conigli, così via Vanno di moda le cose hawaiane E le maglie dell'IKEA Oddio mio Questo è lo stile di onde, capite? Che è molto bravo Comunque siamo arrivati alla cartomante Adesso inizio io, poi Valentina deciderà se lo vuole fare anche lei Se no si deprime troppo In base a quanto sono deprimenti le mie cose Andiamo va Ciao 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 blockia Una Questi Ba non sono più troppo ora non è un personaggio non è più forte non è più facile 8, 9, 10, 11, 12 sono tutti 8, 9, 9 è un bello di raggiungere quindi 8, 9, 10 è un bello di raggiungere ragazzi questa signora a me distrugge praticamente ha detto che ci sono un sacco di uomini nella mia vita continuerò a fare i date forever praticamente fino ai 30 anni devo solo fare date a random con ragazze random perché tanto non mi sposo e vabbè fin qua ci piace poi ha detto che devo smetterla di guardare l'aspetto fisico e scegliere la persona che mi piace in base a se io gli piaccio ed ho bella merda quindi devo trovarmi un cesso che a cui piaccio ragazzi però questa tizia è una stronza tutte le volte mi demolisce ha detto che devo andare a fare il master basta lavorare devo fare il master io non fare il master però ha detto che mi prendono se faccio l'application quindi tra qualche mesi che saprò sapere se mi hanno preso dal master se mi hanno preso è un miracolo e lei verrà premiata adesso togliamo la passeggiata e andiamo ai conigli e siamo arrivati al coso dei gatti c'è silvia che non si fa vedere e vi faccio vedere le sue scarpe dei gatti proprio dei conigli vi faccio vedere le scarpe di silvia perché non si vuole far vedere la faccia eccola nascondo ok e l'abbiamo trovata per strada e quindi stiamo andando assieme e ci sono i conigli però vedi c'è un gatto piccolino i gatti sono gratis ma che sta facendo sto gatto qua dovete mettere questo gran violino ci sono anche le orecchiette valentina attaccata valentina attaccata anche le orecchiette abbiamo le orecchiette le orecchiette la corigia questo è un coniglio è? no wow no ha no 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 Io stavo a fare per un mercato Ma che cazzo è capitato a me? Che gli è capitato? E abbiamo finito con i conigli Come è stato con i conigli? Denero E' stato denero? Denero Erano molto puzzolenti però Puzzavano Anch'io puzzolento E adesso siamo sotto la rage room Che abbiamo prenotato per l'altra e mezza Puzzavano arrivare dieci minuti prima Quindi ci siamo E andiamo a distruggere un po' Di letto domestico e piante Valentina stai firmando Che se anche muori O sei psicologicamente o fisicamente Injured Non posso denunciarmi Sei pronta a morire? Allora hanno manzonetti Valentina Mi sto vestendo Come sei pop oggi Cominata se sexy Wow Ok I'vano prenotato I'vano prenotato I'vano prenotato And this guy over here Don't hit anything On top of the treadmill Also try to avoid The floor and the walls The ceramics Chuck as hard as you can Against the target Make sure your safety is away And also you can use this For yourself But you guys have to go for a little Ok I don't know why you can use that Ok Ok Have fun Nooo Nooo Oh my god 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 You should not do that But whatHold your voice Do you know Yes Yes Okay Yes 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 Message Yes 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.